Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della delitto di Fogliano. Ieri la 37enne Reo Confesso ha reso interrogatorio nel carcere a Retino. Dopo la scena muta nel corso dell'udienza di Convalida adesso ha raccontato la sua verità. Vediamo. Ci sarebbe una lite per dei pulcini di Pavone all'origine del delitto di Fogliano della Chiana. A dirle lo stesso il famo Ahmed Rana Reo Confesso dell'omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami. Il 37enne arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di omicidio volontario assistito dal suo avvocato Fiorella Bennati è stato infatti sentito a sorpresa nel tardo pomeriggio di mercoledì davanti al gruppo del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone dopo che nel corso dell'interrogatorio di Garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Stando al suo racconto dunque sabato mattina sarebbe uscito con la vittima per verificare se i pulcini di Pavone, animali allevati dalla 72enne, fossero al sicuro. Erano però spariti durante il temporale e la donna avrebbe dato in escandescenza incolpando il marito. In quel momento assente il 37enne ex fidanzato della figlia che viveva nel casolare della famiglia sarebbe così intervenuto per difenderlo. Da lì la situazione sarebbe degenerata fino alla tragedia. Per me era un grande amico avrebbe dichiarato il 37enne non ci ho visto più e l'ho colpita utilizzando probabilmente una vanga ritrovata sul posto che a breve sarà analizzata dai RIS. Subito dopo l'uomo avrebbe preso un treno per raggiungere Prato dove aveva programmato di andare per cercare un lavoro. Spetterà adesso l'autopsia sul corpo della donna a far piena luce sulle modalità dell'omicidio e sulla compatibilità con l'arnese agricolo ritrovato. L'esamo autoptico dovrà anche stabilire se la 72enne sia stata abbandonata agonizzante. Adesso l'omicidio di San Polo dopo il colpo di scena. Nel corso dell'ultima udienza andiamo a comprendere il perché di questa decisione della GUP che nella sua ordinanza ribalta la costruzione della tragedia e cancella l'ipotesi di eccesso di legittima difesa. Non può essere invocata da Mugnai la legittima difesa perché ha accettato la sfida lanciata dal proprio aggressore innescando una sorta di duello e comunque avendo reagito in maniera non proporzionata alla situazione di pericolo. E' questa sostanzialmente l'interpretazione del GUP a Claudio Lara dei fatti del gennaio 2023 quando l'artigiano Aretino uccisa a colpi di fucile il vicino di casa Gesim Dodoli che con una ruspa gli stava distruggendo la casa. Il giudice nel corso dell'ultima udienza aveva così deciso di rimettere gli atti nelle mani della PM Laura Tadei per riformulare l'accusa non più eccesso colposo di legittima difesa adesso Mugnai rischia l'accusa di omicidio volontario. Nel documento di 18 pagine il GUP Lara ricostruisce i fatti dalle deposizioni dei familiari alla chiamata al 112 dalle indagini alle perizie e gli approfondimenti dei RIS. Da qui la sua decisione. Secondo il giudice mancano dunque presupposti per ritenere la legittima difesa per mancanza di un pericolo imminente di vita e della proporzione. Ci sarebbe stata poi una sequenza di colpi esplosi quando ancora non era stato chiamato il 112 mentre il mezzo era impegnato nel danneggiamento delle auto parcheggiate nel piazzale per questo sostiene il GUP l'imputato avrebbe potuto ricorrere ad una reazione meno pericolosa e proporzionata. Anche poi quando la ruspa ha attacchiato la casa secondo Lara non può configurarsi nessun caso di legittima difesa perché Mugnay nonostante l'azione dell'escavatore fosse in fase di stasi ha esploso tre ulteriori colpi nei confronti del bersaglio che non era più in condizioni di aggredire. Avrebbe anche colpito punti potenzialmente vitali dunque un superamento oggettivo dei limiti della legittima difesa secondo il GUP frutto di una scelta volontaria che si vince anche dalla mancanza di colpi d'avvertimento. Di tutt'altro avviso i legali di Mugnay. Vedremo di difenderlo al meglio in questa nuova fase che è una fase più complessa sinceramente che non mi sarei mai aspettata però ci sta. Secondo voi non si è trattato in alcun modo di domicilio volontario. Ma scherziamo. È stato fissato l'ultimo saluto per Marco Ricci l'operaio di 39 anni di Sansepolcro originario di Roma che ha perso la vita nel cantiere della ludoteca del memoriale del ponte Morandi a Genova lo scorso 3 ottobre. Il funerale sarà celebrato sabato 12 ottobre nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Sansepolcro. Il servizio funebre sarà effettuato dall'Azienda dei Trasporti e delle onoranze funebri del Comune di Genova e l'amministrazione municipale genovese si farà carico delle spese per le esecue. Intanto è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto. Ci sono degli indagati e delle ditte aretine coinvolte. Quattro persone di origini rumene invece residenti tra le province di Torrino e D'Arezzo sono state invece arrestate dai carabinieri di Savona accusate di 35 furti di attrezzature agricole e cavi di rame. I colpi avvenuti tra maggio 2023 e febbraio 2024 hanno colpito comuni Liguria, Piemonte e Lombardia. Le indagini supportate dalle immagini delle tre camere di video sorveglianza hanno portato al sequestro di 2.200 kg di cavi di rame ma anche motozappe, tagliastiepi a motore, scavatori ed altre attrezzature. E' ancora cronaca in Valdichiana a case sparse di Osaglia. Questa mattina un grave incidente attorno alle 11.30 il personale del 118 dell'Aso Toscana Sud-Est è intervenuto sul posto dove un mezzo pesante si era ribaltato. Perito un uomo di 40 anni trasportato in codice 3 alle scotte di Siena con l'ambulanza. Presenti anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ieri sera invece un altro incidente, il personale dell'emergenza urgenza è stato attivato attorno alle 19.30 a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un'auto e una bici. Un minore è stato trasportato al Medier di Firenze in codice 2 a Porto dell'Eli Soccorso Pegaso sul posto, anche in questo caso oltre ai sanitari, le forze dell'ordine. E adesso voltiamo pagina per parlare di maltempo, piccoli disagi anche alla viabilità aretina per la pioggia battente, soprattutto questa mattina. Il maltempo dalle ultime ore ha portato con sé piccole criticità anche per la viabilità aretina seppur fortunatamente non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La pioggia incestante ha causato problemi soprattutto per quanto riguarda i sottopassi. Nei vari angoli della città si sono infatti verificati piccoli allagamenti. Ad allagarsi è anche il nuovo sottopasso baldaccio, dove vista la pioggia battente l'acqua ha faticato a defluire. La situazione è stata comunque rapidamente normalizzata, anche se non sono mancate le polemiche tra gli automobilisti, soprattutto sui social. Sempre in provincia di Arezzo, disagi poi anche a Cesa, dove si sono allagate alcune strade. Dopo il guasso telefonico di fine settembre, Cortona fa i conti con un nuovo grave disservizio che si protrae da più di tre giorni. Fuori uso infatti la centralino del palazzo comunale, non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico e di Camucia. Anche svariati recapiti di servizi pubblici come scuole, forze dell'ordine e autorità di protezione civile sono scollegati dalla rete da quasi 100 ore. L'amministrazione comunale ha così proceduto all'apertura di ticket per la segnalazione di guasti. A seguire è inviata una pecca al gestore della telefonia fissa del comune, ma ancora senza risposta. Chiediamo di conoscere le cause, siamo pronti a valutare ogni azione di tutela sia per l'amministrazione comunale che per le imprese e le famiglie colpite dal disservizio, ha dichiarato il sindaco di Cortona, Luciano Meoli. E adesso passiamo all'economia, l'assessore regionale al lavoro, Alessandra Nardini, ha infatti inviato una lettera alla ministra del lavoro e delle politiche sociali in qualità di coordinatrice della Commissione Formazione Professionale e Lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. La missiva contiene le richieste delle Regioni sulla crisi del settore moda. Sono 74 le aziende che parteciperanno dal 14 al 17 ottobre alla Career Week 2024 dell'Università di Siena. Durante i quattro giorni di iniziativa studentesse, laureate, studenti e laureati, Unisì potranno sostenere colloqui conoscitivi ed esca aziendali allestiti al Palazzo del Rettorato a Siena e al Campus Lab del Pionta ad Arezzo. La giornata inaugurale, lunedì 14, sarà dedicata al tema della sostenibilità a Siena. Il giorno successivo il Career Week si sposterà ad Arezzo al Campus Lab del Pionta con colloqui di stage e lavoro che andranno avanti dalle 10 alle 16. Ricordare le donne vittime di violenza dando una testimonianza concreta. È con questo scopo che la direzione del presidio dell'ospedale San Donato di Arezzo ha voluto installare una teca contenente delle scarpette rosse, simbolo del femminicidio. La targa che accompagna la teca recita così. Quando la donna corre la vita con tutto il suo potere ma l'uomo la ferma con tutta la sua pochezza, non è mai amore. Un'iniziativa fortemente voluta da tutto lo staff della direzione per sensibilizzare su questo tema. E adesso voltiamo pagina. Proseguono in Arezzo, infatti, le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Al Museo Diocesano di Arte Sacra di Arezzo una mostra a cura di Serena Nocentini. È una bellissima occasione perché mette in luce questa particolare committenza che ha accompagnato l'opera del Vasari che è l'ambito ecclesiastico. E questo anche ricorda come se partiamo da un museo fisico ben collocato come quello che oggi viviamo e che ha luoghi diversi nella città possiamo ritrovare come la committenza ecclesiastica ci invita a camminare perché ci aiuta a riconoscere un museo itinerante che ci porta in chiese, luoghi, spazi ecclesiastici arrivando fino a Camaldoli accompagnati dal Vasari. È il Museo Diocesano di Arte Sacra di Arezzo. L'ennesima tappa in questo anno vasariano a 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari per conoscere il poliedrico artista. Una mostra a dossier a cura di Serena Nocentini che oltre alle tele processionali dipinte da Vasari per la compagnia di San Giovanni Battista dei Peducci porta alla luce opere sotto alcuni aspetti inedite restaurate per l'occasione. Sono due tele che si conservano nella Badia delle Sante Flore Lucille in particolare una era diciamo nascosta celata in un deposito perlomeno dal 1973 e nel 2018 padre Francesco parroco della Badia appunto trovò questa tela mi chiamò per per visionarla chiaramente necessitava di un restauro comunque si notava già una buonissima qualità ma soprattutto queste due tele avevano la particolarità di essere esattamente identiche a due opere appunto di Vasari che si conservano al Museo Diocesano. Mi riferisco allo stendardo della compagnia di San Giovanni dei Peducci quindi uno stendardo processionale che nasceva appunto dipinto su dei lati che poi fu trasformato in due dipinti che veniva portato in processione della compagnia. Uno stendardo del 1549 che riscosse un grande successo tant'è che appunto Vasari stesso lo dice nella sua autobiografia che questo stendardo era particolarmente piaciuto al cardinale francese Dal Magnac che era in visita ad Arezzo insieme all'amico Vincenzo Borghini che appunto gli chiese di averlo per poterlo donare al re di Francia. Vasari racconta che insomma non se la sentiva di perdere la parola con chi a cui l'aveva promesso e più tardi dirà con la sua sottigliezza, la sua astuzia e dice non so se mi sarebbe venuto così bello da poterne farne un altro. Il fatto sta che noi ci siamo ritrovate queste due tele completamente identiche che il restauro soprattutto per una ha portato diciamo delle grandi novità e una buona qualità e perfettamente identico se non per qualche piccolo dettaglio all'originale. Anche la giostra del Saracino celebrerà il Vasari nell'anno a lui dedicato esponendo a Palazzo Comunale dal prossimo 12 ottobre due lance d'oro a lui dedicate e poi la grande mostra che sarà inaugurata il 30 di ottobre e che farà tornare ad Arezzo la Chimera. Siamo molto contenti perché poi quest'anno Vasariano come in questo caso non lascia soltanto una serie di mostre e di cataloghi frutto del lavoro degli studiosi ma in questo caso la fondazione ha contribuito proprio al restauro delle opere quindi questo è un lavoro che rimarrà anche in futuro anche quando le mostre chiuderanno i battenti ma si potrà continuare a vedere questi capolavori e vederli nella loro estrema bellezza. Come le sembra che i suoi concittadini abbiano risposto alle tante esposizioni proposte, a conoscere anche questo loro concittadino illustre sotto forme, sotto aspetti che non erano così conosciuti? Ne è emersa una figura poliedrica, una figura interessantissima, acutissima anche dal punto di vista strettamente personale come uomo oltre che come artista e come anche grande politico della cultura dei suoi anni e Arezzo ha vissuto e vive questo momento in maniera diffusa. Basta vedere le persone che partecipano a questi eventi di accompagnamento a queste pillole di percorso per rendersi conto che si va dallo studente di una scuola superiore ad un accademico che viene da fuori Arezzo piuttosto che a una famiglia che ritiene di capire e conoscere meglio che cosa significhi Giorgio Vasari ieri, oggi e mi verrebbe da dire anche domani. Sarà il regista milanese Marco Tullio Giordana, autore di cult come la meglio gioventù e cento passi, a ricevere il premio Marzocco alla carriera nel corso della 42esima edizione di Valdarno Cinema Film Festival venerdì 11 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il regista torna al festival dove era stato quasi 30 anni fa e adesso presenta al pubblico il suo ultimo lavoro, la vita al campo e riceverà appunto il premio alla carriera. Appuntamento alle 21 presso il Cinema Teatro Masaccio. E adesso la pagina dello sport, il basket è stata una partita al cardiopalma alla pala San Montana di Empoli dove la BC Servizi Scuola Basket Arezzo ha sfoderato una prestazione di carattere insidiando fino all'ultimo pallone la computer gross di coach Valentino. A decidere la partita a favore dei padroni di casa le 13 triple messe a segno nell'arco di 40 minuti con Baccetti capace di castigare la difesa Maramto per due volte consecutive sullo scadere dei 24 secondi nelle azioni finali. La partita è così terminata sul punteggio dell'80-74 che ha lasciato molto amaro in bocca alla BC Servizi. Sentiamo le parole di coach. Fioravanti. È mancato che tutte le volte noi dobbiamo andare sotto 10-11 punti come è già successo sia a Siena e anche oggi per poi iniziare a giocare. È mancato che quando abbiamo messo la testa avanti a due minuti dalla fine abbiamo fatto tre o quattro azioni un po' rivedibili dal punto di vista delle scelte che abbiamo fatto. Ci rimane la consapevolezza di essere venuti qua a giocare una partita fino alla fine contro una signora squadra perché noi siamo una squadra praticamente nuova per otto decimi. Gioca contro una squadra che già gioca insieme da un anno e giocassero alla pari alla terza giornata del campionato ci lascia la consapevolezza che ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta ma non basta e torniamo a casa con questa sconfitta. Io mi aspetto che ho 10 giocatori, mi aspetto che tutte e 10 diano un contributo importante. È ovvio che se vedo che chi deve cambiare il ritmo non ci dà quello che ci dà gioco forza, devo spremere chi mi dà garanzie. Quindi io mi aspetto più impatto anche da chi entra dalla panchina perché non si può arrivare alla fine con tre o quattro giocatori che hanno più di 35 minuti. Sono stati bravi i primi due quarti comunque a gestire bene le situazioni falle perché prenga dopo due minuti due falli, entra a cadere quattro azioni due falli se praticamente è giocato senza 5 di ruolo pertanto siamo riusciti ad arrivare all'intervallo con una situazione falle abbastanza immacolata. In Casentino invece lo sport ha incontrato la solidarietà in occasione del Fitness Day che giunta dalla sua decima edizione ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all'interno della palestra Body House di Bibiena che ha trovato a fornamento in una raccolta fondi devoluti in sostegno dei servizi sociosanitari condotti nella vallata da due associazioni di volontariato Avis e Aido che hanno poi sensibilizzato sull'importanza della donazione rispettivamente di sangue e organi. La Body House ha consegnato un assegno di 1000 euro a queste due realtà come ideale concretizzazione delle finalità del Fitness Day. Questa perra stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!